Maria Ultimate Revisore Misms Revisore Right Buongiorno, oggi vorrei raccontarvi una storia, una storia molto personale e come tutte le storie è un mix di avventura, di gioia, di dolori, di emozioni e di amore. In particolare la storia di Glancy. Glancy è una start-up che ho avviato con due amici, un altro italiano, Alberto Tretti, un canadese, Gabriele Griset, che abbiamo avviato nel 2010 partendo da un'idea e da un problema di cui ci eravamo innamorati e che in due anni abbiamo trasformato da un'idea a un prodotto che è poi stato comprato da Facebook dove oggi lavoro. Vi confesso che sono un po' imbarazzato perché non ho mai raccontato la storia in questo format. L'ho raccontata spesso come chiacchierata e mi fa un po' strano essere qui e parlarvi della mia avventura ma mi auguro che possa essere uno spunto di riflessione, un'ispirazione anche per voi per pensare ai problemi che incontrate ogni giorno e magari per darvi lo spunto di anche voi avviare un'idea. Una start-up o magari di lavorare un'idea che possa cambiare il mondo. E con questo inizierò. L'avventura inizia nel 2006 e nel 2006 io vivevo a Milano, mi ero trasferito da Verona e ho deciso di partecipare a un programma di scambio con la University of Illinois in Chicago. E quindi senza essere mai stato negli Stati Uniti prima mi trasferisco a Chicago e arrivo in un mondo molto diverso da quello a cui ero abituato e un paese dove non conosco nessuno. E un po' alla volta ho iniziato a incontrare persone in università, in palestra, ai bar e sarà capitato anche a voi. Conoscere persone nuove è molto difficile. C'è questa mancanza di chemistry, di capacità di comunicare in maniera genuina e spesso e volentieri il processo è proprio doloroso. Un po' un processo di trial and error, provi una volta, due volte, fino a quando finalmente conosci qualcuno che scopri ha qualcosa in comune con te. Magari un vecchio amico, magari il fatto che avete studiato nella stessa università o chiamate lo stesso autore. E quando scopri una persona che ha qualcosa in comune con te, la dinamica della conversazione cambia completamente. La conversazione è molto più fluida, tu sei più genuino con l'altra persona, l'altra persona è più aperta con te. E queste situazioni non succedono spesso ma quando succedono sono bellissime. Dopo Chicago mi sono trasferito a Boston, dopo Boston a Santa Fe, dopo Santa Fe a New York. Ed ogni volta ho vissuto lo stesso tipo di problema e le stesse emozioni. E un po' alla volta mi sono innamorato di questo problema e ho sviluppato una sensibilità diversa a questo tipo di interazioni. Mi sono reso conto che in realtà avere qualcosa in comune con un'altra persona non è poi così difficile, però è difficile scoprirlo. E ho cominciato a pensare se ci fosse un modo per rivelare queste connessioni che condividiamo gli uni con gli altri per rendere più facile conoscere persone nuove in qualsiasi ambito, un evento come questo, in un bar, quando ti trasferisci in una nuova città. Così nel 2010 con un mio amico, di nuovo Alberto, e con Gabriel che avevo conosciuto dall'MIT, iniziamo a lavorare a una start-up, ma all'epoca non pensavamo a Glancy come una start-up. In realtà stavamo lavorando a un problema che ci stava a cuore, un problema che avevamo vissuto in prima persona e che volevamo risolvere. Ci eravamo dati all'inizio come obiettivo di costruire una app per iPhone e Android che potesse risolvere questo problema e ci eravamo dati un obiettivo di tre mesi. Poi provarlo, vedere come andava e poi da lì si vedrà. In realtà dopo tre mesi siamo ancora in alto mare, non sappiamo bene cosa stiamo facendo, stiamo imparando lungo il percorso e anche se proviamo a contattare persone che ci potessero aiutare riceviamo poco riscontro. Decidiamo di andare avanti anche se come studenti avevamo pochi soldi e continuiamo a lavorare alla stessa idea. Due persone si uniscono a noi e finiamo a vivere tutti insieme in una casa che aveva due stanze da letto e un salotto molto piccolo e ci viviamo in cinque. Lavoriamo, mangiamo, dormiamo, lavoriamo insieme e riprendiamo il ciclo ogni giorno. Io e Alberto spesso e volentieri facevamo questo pentolone di pasta con questo sugo americano, quindi terribile, e insomma si mangiava insieme e poi si lavorava, si esplorava questo problema, si cercava di trovare una bella soluzione. Passano altri tre mesi e siamo ancora in alto mare, ne passano altri tre, alla fine arriviamo ad essere un anno dalla partenza senza soldi, di nuovo senza contatti e senza persone che ci potessero aiutare a portare questo prodotto al livello successivo, tra virgolette, e decidiamo di lanciarlo come possiamo. Quindi un giorno apriamo, tra virgolette, le porte e l'app diventa disponibile sul App Store e sul Google Play Store. E all'inizio abbiamo un po' di iscrizioni, ci sentiamo molto emozionati, siamo felici di vedere gente da tutto il mondo che si iscrive, ma presto ci rendiamo conto che non sono abbastanza per creare una vera comunità, perché ci sia abbastanza densità di persone per scoprire qualcuno vicino a te che vale la pena conoscere. E decidiamo allora di tentare il tutto e per tutto e da Chicago decidiamo di trasferirci a San Francisco. Siamo convinti che San Francisco sia una città che capisce di più questo tipo di idee e che ci possa dare nuove opportunità, nuovi contatti. Io e Alberto prendiamo una macchina e portiamo il nostro computer e le poche cose che avevamo e ci trasferiamo in macchina da Chicago a San Francisco, siccome non avevamo soldi per l'albergo finché uno guidava l'altro dormiva nel posto del passaggero e viceversa, e arriviamo a San Francisco e per risparmiare sull'affitto troviamo questa famiglia etiope che aveva programmato di viaggiare per quattro mesi e cercava un house sitter, qualcuno che si prendesse cura della casa. Per cui col team ci trasferiamo in questa casa e iniziamo a vivere lì. Io sono il più alto, quindi mi sono piazzato nella stanza dei genitori, i miei due cofander sono finiti nelle stanzine delle ragazzine, che avevano delle tende rosa, avevano il cassettone con le etichette su cosa andava in ogni cassetto, i calzini, le magliette e aveva giocattoli ovunque. Era una situazione un po' surreale, in realtà però creava anche leggerezza in un momento molto difficile. Pensate appunto che arriviamo a San Francisco, una città molto competitiva e abbiamo quattro mesi per cambiare completamente la nostra situazione. Alla fine di quei quattro mesi lì la famiglia ritorna, noi non abbiamo un posto dove vivere e se non riusciamo a trovare soldi prima di quel momento dobbiamo tornare a casa. Ci mettiamo al lavoro, i ragazzi continuano a lavorare al prodotto, a cercare di migliorarlo. Io inizio a parlare, a cercare ad eventi di parlare con persone che ci possono aiutare, investor, giornalisti e un po' alla volta mi faccio strada e riesco a entrare in contatto con qualcuno, poi un'altra persona, poi un'altra persona. Nell'arco di tre mesi parlo con 40-50 investor e tutti dicono di no. Uno dopo l'altro, uno ogni due giorni, tutti dicono di no alla nostra idea. Un po' perché non avevamo abbastanza utenti, un po' perché eravamo stranieri, un po' perché non erano sicuri. In realtà non dicevano di no, dicevano forse che è il loro modo di dire di no perché non vogliono completamente perdere il contatto nel caso che le cose cambino. Ma la verità è che ci ritroviamo a dicembre con una app bellissima ma senza utenti, senza soldi, senza investitori, senza aiuti, contatti e dobbiamo decidere cosa fare. Molte persone credo a questo punto avrebbero deciso di tornare a casa, di provare a fare qualcosa di diverso. Alla fine ce l'avevamo davvero messo a tutta. Però qualcosa ci diceva che il problema che stavamo cercando di risolvere era davvero importante e allora abbiamo deciso di continuare. A quel punto i due ragazzi che non erano fondatori se ne sono andati ma i tre co-founder, io, Alberto e Gabriel, abbiamo deciso di restare. Alberto e Gabriel si ritrasferiscono a Chicago per vivere con le loro ragazze perché non avevano un posto dove stare e io ho deciso di rimanere a San Francisco come avamposto ma non mi posso permettere un affitto e allora chiedo a un amico se posso vivere a casa sua e mi trasferisco nello suo sgabuzzino. Non è una battuta, non è un modo di dire, mi trasferisco letteralmente nel suo sgabuzzino, nel sottoscala, quindi in realtà aveva anche il soffitto che andava lì in giù. Era largo abbastanza da infilarci un materasso e basta. E compro un materasso su Craigslist per 20 dollari, l'ho baratto a 10, mi piazzo lì e ho vissuto lì per 5 mesi. Il resto della storia che vi racconterò adesso l'ho vissuta nello sgabuzzino. A gennaio quindi dopo esserci trasferiti io continuo a cercare contatti, continuo a lavorare per cercare di cambiare le cose ma nel frattempo i miei co-founder cominciano a spaventarsi, ad avere paura. Le ragazze gli suggeriscono di trovarsi un lavoro vero e io da San Francisco gli dico questo è il vostro vero lavoro, questo è una passione, è un problema che voi avete capito è importante risolvere, questo è quello che dobbiamo fare. E ci fissiamo come obiettivo un articolo sulla stampa, solo uno, se poi quello non ci porta niente allora ce ne andiamo. E questa era l'ultima nostra speranza e anche questa ci viene tolta a fine gennaio quando un'altra startup americana ben finanziata con più di un milione di dollari in investimenti lancia un prodotto molto simile al nostro e riceve un articolo su TechCrunch, poi un altro, poi un altro. e noi non sappiamo più cosa fare, non abbiamo più un punto di riferimento e forse per disperazione, forse perché appunto non avevo più, non sapevo più cosa fare ho deciso di scrivere un commento molto personale, molto acceso a uno di questi articoli in cui denuncio il fatto che questo articolo, gli articoli che erano stati pubblicati parlavano solo di una startup ma in realtà ce ne erano molte altre, di molti imprenditori tutti appassionati di questo problema che lo volevano risolvere e non venivano menzionati ed era importante secondo me poter parlare di tutte le startup, tutti i prodotti che erano stati costruiti questo articolo, questo commento diventa viral perché probabilmente tante altre persone si sono immedesimate, gli altri founder, i loro amici, i nostri utenti e tutto ad un tratto diventa il commento più in alto dell'articolo e l'autore dell'articolo, l'editor di TechCrunch quindi ne prende nota va sul nostro sito e si rende conto che abbiamo un bellissimo prodotto lo prova, lo usa, conosce persone attraverso il prodotto e decide di scrivere un articolo tutto questo è pazzesco se ci pensate scrivere sul blog più potente di Silicon Valley e attaccare pubblicamente un autore e poi avere l'autore che parla di te, che prova la tua startup è già qualcosa di incredibile ma in aggiunta a questo tutto questo succede tra febbraio e marzo e a marzo c'è questa conferenza che forse alcuni di voi conosceranno South by Southwest questa conferenza è dove hanno lanciato Twitter Foursquare, GoWallet e tante altre startup di successo e quindi ogni anno c'è questa sorta di aspettativa per scoprire quale sarà the next big thing la prossima startup di successo e così l'autore e altri blog cominciano a parlare dell'altra startup Highlight e di noi come i due candidati per appunto questo the next big thing e tutto ad un tratto con lo stesso prodotto fondamentalmente che avevamo cercato di lanciare da 6-8 mesi iniziamo a ricevere l'attenzione della stampa prima TechCrunch poi New York Times Wall Street Journal Washington Post Forbes addirittura Time Magazine scrive un articolo su questo spazio social discovery la possibilità di conoscere le persone intorno a te utilizzando uno smartphone e Facebook e propone Glancy come uno dei prodotti migliori per farlo io ancora vivevo nello sgabuzzino e comincio a ricevere telefonate dall'Economist dal New York Times con giornalisti che vogliono venire a visitare i nostri uffici e io non solo non avevo un ufficio non avevo nemmeno un posto dove vivere e allora ogni volta mi inventavo una storia dicevo che ero impegnato che ci potevamo trovare in un coffee shop per strada tra un meeting e un altro gli organizzatori di South by Southwest mi invitano per andare a parlare del nostro prodotto di questo spazio e non ho i soldi per pagarmi il volo per pagarmi l'hotel e il volo chiedo i soldi in prestito ad un amico e per l'hotel contatto una persona attraverso la nostra app attraverso Glancy un imprenditore che avevo conosciuto a San Francisco e che viveva ad Austin e gli chiedo se posso stare da lui e lui mi dice subito di sì e finisco a vivere nella stanza di sua figlia che anche lei aveva 12 anni e la figlia poverina finisce a dormire sul divano e sto ad Austin e vivo questa situazione incredibile questo turbinio di emozioni metà degli investor che avevano detto di no inizialmente ci ricontattano sono pronti a investire soldi persone che non avevamo mai sentito nominare ci scrivono dicendo che avevano 100.000 dollari pronti da darci che ci potevamo mettere d'accordo sui dettagli più tardi allo stesso tempo ci contattano delle aziende ci contatta Facebook ci contatta Google ci contatta Foursquare ed altre piccole start-up che vogliono capire che cosa stiamo facendo e che sono curiose un po' del nostro prodotto del nostro team un po' della tecnologia che avevamo sviluppato purtroppo per mancanza di tempo non posso spiegarvi dettagli ma Alberto ed io sono orgoglioso perché siamo entrambi Veneti e Gabriel avevamo sviluppato delle idee molto molto interessanti che erano decisamente più sofisticate delle altre app che erano sul mercato ad ogni modo abbiamo la possibilità di continuare a crescere considerate che in quel momento avevamo più di 1000 utenti al giorno che si stavano iscrivendo da poche decine al massimo prima oppure possiamo unirci a una grande azienda e per prendere questa decisione abbiamo riguardato proprio a come avevamo scelto di proseguire nel passato e cioè a come risolvere il problema ci siamo chiesti qual è il modo di risolvere il problema perché alla fine era quello che volevamo fare non era fare un business per il gusto di fare un business e ci siamo resi conto che effettivamente di tutte le opportunità che avevamo unirci a Facebook era probabilmente il modo migliore per effettivamente portare le persone insieme per aiutarle a connettersi l'una con l'altra quindi mi sono incontrato con Mark Zuckerberg abbiamo avuto la famosa camminata dove mi ha chiesto qual era il nostro obiettivo qual era la nostra missione e lui ha parlato della loro e quel momento è stato un po' come quando vai a cena per la prima volta con qualcuno e ti rendi conto che c'è subito sintonia quindi siamo stati molto felici di prendere la decisione di unirci a Facebook ed è lì che sto lavorando ora da due anni purtroppo non vi posso raccontare quello che è successo dopo per adesso però voglio concludere con un pensiero alcuni di voi si staranno chiedendo come mai il titolo di questo intervento è Ignoro Rules e tra l'altro la mia ragazza che è tedesca mi ha fatto notare che non c'è bisogno di raccontare a un pubblico italiano di ignorare le regole lo facciamo già di nostro però però l'idea è questa dopo appunto questa avventura ho cercato di riflettere su quello che ci era successo e di capire che cos'è che avevamo fatto bene che cos'è che avevamo sbagliato di trovare delle regole che mi potessero aiutare in futuro che potessero aiutare altre persone a fare quello che avevamo fatto noi e per quanto ci provassi non riuscivo a trovare qualcosa che effettivamente potessi dire questa è una regola da seguire e questa è una cosa da non fare ma allora mi sono chiesto come abbiamo fatto a trovare il coraggio la forza di fare quello che abbiamo fatto di continuare nonostante gli ostacoli e mi sono reso conto che ci sono altre situazioni nella vita quando facciamo la stessa cosa ed è quando siamo innamorati quindi mi sono reso conto che la nostra forza non era nel seguire certe regole nel seguire un certo business model ma era di ignorare le regole e di seguire la nostra passione ci siamo innamorati di un problema e abbiamo deciso di risolverlo per cui mi auguro che con questa storia anche voi possiate trovare presto un problema di cui innamorarvi e di cambiare il mondo risolvendolo grazie 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 a tutti